Quest'anno è la seconda edizione che facciamo, visto la riuscita della prima, abbiamo deciso di provarci e sperando di riuscire anche meglio dell'anno scorso. Cosa prevede il programma? Niente, c'è tanta musica, la prima sera il 4 con apertura a senda alle 19, poi c'è Romeo e Sonora che è un gruppo folk. Il sabato sera ci sarà sempre apertura a senda alle 19, poi un gruppo salentino e poi la domenica un gruppo rock con accessori anni 60. Il rosticino abruzzese autentico e certificato a Villapetto? Sì, il nostro rosticino ha un valore aggiunto rispetto agli altri rosticini abruzzesi, soprattutto c'è delle peculiarità che troviamo solo a Villapetto di Colledare, per questo che noi amministrazioni siamo molto contenti di dare una mano a questi ragazzi per l'organizzazione della Sagra.